Altri rinforzi! Non capisco tutta questa fretta di tornare in prigione! Non ho paura di te! Devo coccarlo a me! Madonna, che casino questo... Questo combattimento... Quello è morto o devo andare pure a riprenderlo? Wow, shit! Dov'è? Ti faccio a pezzi! Fanculo! Fanculo! Preso! Ah no? Perché mi pare che alla prigione ho vinto! Brutte pippacce di minchia! Ok, uno l'ho preso! Secondo! Au! Dai, fammi male! E' proprio vedere come mi fai male! Fanculo! Questo mi ha fatto male! Fanculo! No! Ok, ora ti prendo, stronzo! Ah, oh merda! Non l'ho visto! Non l'avevo visto! Sono... Sono... Mi sono già alzato, ciccio! Forza, alzati! Fatto! Madonna, che fatica! Quanti erano? 800! Ok, Yuri! Grazie! Andiamo a andarmene! Torno ai coi... Per... Non ho... Non ho fatto tempo a leggere! Spider-Man! Ok, sì, dimmi! E arrivo! Ma mi sta ancora seguendo il razzo? Ok, mi ha mollato! A me non sembrava così scaltro come... Come scienziato, visto che... Praticamente faceva 700.000 errori e dovevo... Eh, fixarli lì io! Però... Io che sono l'apprendista! Merda! Ma il caos, May? Il caos? Davvero? Lo definisci solo caos? Questo è l'inferno sulla terra! Love you, ciao! Ok! Arrivo! Arrivo sull'Empire State! Ok, accomi! Porca vacca! Bello che mi fa vedere lì in lontanza all'Avenger Sowers Tipo solo per trollarmi, per dirmi Ah ah, gli Avengers non ci sono! Eeeeee... Yo! Peter, hai tempo! Serve aiuto al rifugio Fist, che si trova a nord! Il rifugio per i veterani di Arlen, che succede? What? May, non fare cazzate per Dio! Allora potevo andare prima nell'altro, Arlen è più vicino a questo qua, al primo dove sto andando, insomma O almeno geograficamente lo è Beh, poi... Bene, Electro e i demoni hanno bloccato i miei uomini La situazione è delicata Capirai meglio quando sarai lì Ok Ok Oh cazzo, Electro, lo vedo Lo vedo lì che svolazza, bastardo Vieni, Electro È ora di prendere schiaffi Mi piace il suo costume, è molto hipster Molto alternativo Si mette male L'elettricità dei trasformatori impedisce i ponenziotti di uscire Yuri, la situazione è molto delicata Per liberare i tuoi uomini dovrò disattivare quei trasformatori Wow Anche se ci riesci, mi servirà comunque il tuo aiuto Ok Ok Ok, allora Oh shit Fanculo, allora, va bene, va bene Volete giocare così? Ok, mi avete rotto il cazzo Adesso drone Uno è andato Ok, ciao No, c'è un cazzo Ok, ciao Fatto Dov'è l'altro? Quello lì giù? Cazzo, 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 cazzo Dov'è? Ah, è questo Fatto No, forse no Merda, che male Che male Porco zio, che male Meno male che mi son curato Fatto Dov'è? Ah, ok, è quello Mi sa che sono il primo nella storia a dire queste esatte parole in questo esatto ordine Cazzo So come fare a prenderlo Oh shit Che cazzo dici? Non sto abbandonando la missione, coso? Io non sarò riuscito Fatto Ah, ce l'ho fatta Senza dover uccidere tutti quanti Ok Drone Oh merda, non posso usarlo L'ho usato prima L'ho usato prima per la peggia stronzata del mondo Fuck Fanculo Ok, sentite Wow Shit Wow Ok Madonna Che cazzo Mi date tre Due secondi Please Tregua Due secondi Ok Oh cazzo Preso Fanculo Fanculo che mi prendi te Ma che cazzo Porca puttana Ma che cazzo Sono diventati super potenti questi cosi Fatto Ah Bene Sì sì, arrivo Ah bene, con calma Yuri, eh Mi muovo Qua sono il ricercato numero uno Minchia Manco la quinta stella su GTA Oddio no No, siete lì insieme? Cazzo Spero che io non debba decidere tra MJ e Miles Perché qualsiasi persona normale sceglierebbe MJ E penso che lo sappiano Quindi faranno di tutto per farla morire Se dovesse arrivare a una scelta tra i due Attenzione Un deposito alimentare Stato attaccato dagli sciacalli Eccomi Segnalazione giusta da Ansonia Passo Oh merda Rhino Chissà come dovrà batterlo Tipo schivandolo E picchiandolo Magari devo lanciarli addosso i poliziotti Chi gliela date le armi? Oh fanculo Sul serio? Dai Ok Madonna scusate ragazzi Non sto parlando Perché mi devo concentrare Per sta roba Oh shit Devo sul serio concentrare Per queste missioni Perché sembrano piuttosto stronze Fanculo Preso 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 Fanculo Con quel cazzo di lanciarazzi Brutto bastardo Vieni stronzo Sì sì vado State calmi eh Guardate Già è complicato Grazie Grazie Fai il comitato di accoglienza? Tu bastardo Ti ho preso Tu le sue stupide fruste Non lo sai che non sono più fighe Dai tempi di Indiana Jones Ok Ancora? Madonna Sul serio? Li vedo Non posso permetterlo Non posso permetterlo Ci penso io Ciao bello Fanculo Via Dove sono? Merda sono lì Ah sono anche qui Cazzo Fanculo Eh voglio proprio vedere come lo vendichi il tuo arresto Fammi vedere Guarda sono qui che fremo Porca cazzozza Altro Bella Oh merda Sul serio? Sul serio ragazzi? Adesso vi sembra il momento? Fanculo Usa l'attacco ragnatela per evitare i soldati Scrivare le loro ragnate Precisa attivare i gadget Ok Fanculo Ma lo vedete che sto combattendo contro gli stronzi? Non lo vedete? Brutti figli di puttana Mi lasciate in pace please Cazzo Dai senti Morto Vai a fare in culo bastardo Preso Crepaci Questo che vuoi giocare così Va bene Giochiamo allora Fanculo no Non mi prendi con questo cazzo di lanciarazzi Non mi prendi Sono intoccabile stronzo Fanculo no Ho detto che sono intoccabile Bastardi Ora tocca alle scimmie volanti di Sable Ok scimmie Venite E ci divertiamo Chi c'è qua? Ancora tu? Bastardo Bene Appena ti trovo Sable Madonna Le botte in culo che ti do Non mi piace Così impari a importunare i mercenari internazionali Ma fa il culo Yuri anche tu eh Non ti ci mettere Chiamami se qualcosa va storto Certo E grazie Senza di te non avremmo avuto chance Ok Devo correre al rifugio fist di Harlem Per aiutare Ok immagino sia Nord Esatto Peter Grazie al cielo Ci servis al centro per i viterali Dove sei? Mi hanno trovato Sto arrivando MJ Che succede? Non ho una vita facile Abbiamo evacuato il personale dell'edificio Ma May e Miles sono ancora dentro Oddio Oddio Spero che tra i due non debba salvare May Perché Perché la odio Odio il fatto che May si è ancora in vita Dopo 80 anni di Spider-Man Ok eccomi MJ non ci provare eh Ok eccomi Non hai un costume ignifugo? Prendili Prendili Pagnatele Bravo Resisti Sì a May stai bene Verso la finestra È lontana Resistete L'ha chiamata zia May Dai Spide Vuoi dirmi che non riesci a reggere quel cazzo di cosa Reggi i camion Coraggio May Ti aiuto Reggi gli elicotteri Minchia I treni della metro Via Via E non riesci a reggere un pezzo di pavimento? A parte che perché hai preso il pavimento e non hai preso l'oro direttamente? Oh merda Tranquilla Sto bene Believe Oh what? Oh what? Nigga Yo Grande Grande Ha bisogno delle respirazioni bocca a bocca MJ Dai Con la lingua funziona meglio Ti amo MJ Ti amo Ok Bene Bene Non capisco se hai gli occhi azzurri o gli occhi verdi, perché con una certa luce sembra azzurra e con l'altra i verdi. Verdi dovrebbero... Sei una figa MJ, ti adoro. Sei un ragazzino strano Miles, sei uno Spider-Man perfetto. L'aiuto di tutti. Ok, attendo ordini, coach. Ok. Divide e ti impera. Signorina Watson, serve un antidoto per il respiro del diavolo. La Oscorp sta lavorando alla formula, ma non possono proteggerla da Octavius e Martin Lee. Dobbiamo trovare la cura e proteggerla. Cercherò qualche indizio. Ok. Miles, devi essere i miei occhi e le mie orecchie al fist. Al minimo problema, chiamami. Dobbiamo proteggere i rifugi e i loro ospiti. Ho detto occhi e orecchie Miles, non mani i gambe, niente. Occhi e orecchie, non fare nulla. Io farò lo stesso con loro. D'accordo, d'accordo. Aspetta! Come posso contattarti? Sì, insomma, hai un telefono nel... Nelle tasche o qualcosa del genere? Chiedi alla signorina Watson. Buona fortuna, squadra. Grande. Sei la ragazza di Spider-Man? Sarebbe fortissimo se... Coraggio, Sherlock. Vediamo cos'hai in questo bocchè di bottiglie. Cos'è? Non sono abbastanza fica per essere la ragazza di Spider-Man? Come osi! Come osi! Non dirlo mai più! Mai più! Non dirlo! Ha, 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 ha! No, 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 no. Grazie a tutti.